Benvenuti in Giovenia. Giovenia è un prestigioso marchio di orologi di lusso svizzero, fondato nel 1860 dal giovane orologiaio Charles Jurgensen, alla Chaux-de-Fonds. Da allora, il marchio si è sempre distinto per la sua eccellenza tecnica, la qualità dei materiali utilizzati e il design elegante e raffinato dei suoi orologi. Negli anni 20 e 30 del XX secolo, Giovenia ha sviluppato una serie di orologi da tasca molto innovativi, come il Mystery Watch, che presentava un quadrante sospeso all'interno della cassa, un orologio che è stato un vero e proprio successo, grazie alla tecnologia avanzata e al design unico. Negli anni 50, il marchio Giovenia si è evoluto con l'introduzione di orologi da polso di lusso con cassa a forma di tono e quadranti dal design molto elegante. Negli anni 60, Giovenia ha lanciato la collezione Aritmo, che presentava orologi con quadranti molto particolari, con una serie di dischi rotanti per indicare le ore e i minuti. Attualmente, Giovenia continua a produrre orologi di lusso di altissima qualità, caratterizzati da una grande attenzione ai dettagli e da un design elegante e raffinato. Il marchio è molto apprezzato dagli appassionati di orologeria e di lusso in tutto il mondo, grazie alla sua capacità di coniugare tradizione e innovazione.